L'occasione è quella della terza pubblicazione di Giancarlo, dell'auditore di edizioni. Terza pubblicazione che completa una trilogia che non solo ha senso dal punto di vista editoriale, ovviamente, ha senso anche per quanto riguarda l'esperienza di Giancarlo come musicista, come compositore. Io come autore scrivo qualcosa con un po' lungo, immagino eccetera eccetera, poi arrivo anche il tipo che mi spiega cosa io voglio dire, perché in generale è così sia con il cinema, con tutte le cose un po' immateriali, tutte le cose che hanno dei doppi significati, ma nei libri è un po' più difficile. E dicono quello che pensano tu avresti dovuto dire, ecco il discorso di cosa vuoi dire con la musica. Sì, sì, sono convinti, cioè mi fanno capire quello che io ho voluto dire con la musica che è stata, per esempio, questi sono dei brani, poi fra l'altro dei brani che hanno particolare la combinazione tra composizione e improvvisazione, quindi si rifanno un po' anche al resto del loro precedente, quindi sempre nella trilogia è tutto molto coerente, stranamente coerente. e quindi si vengono analizzati, interpretati e anche fatti da un critico che è sia un musicologo ma anche un musicista con cui tra l'altro collaboro, suoniamo insieme eccetera, quindi è molto dentro la cosa, quindi ha sviscerato un po' appunto un esempio di me su quello che ho scritto io, penso che succede sempre così. Qui cerco non tanto di parlare di strutture compositive, assolutamente no, né forme sonate, né motetti, anche se cito queste cose, ma non le realizzo assolutamente, ci sono dei, prima di adagiarsi su una forma, di scegliere una forma di composizione, c'è tutto un processo elettubrativo, creativo, istintivo, e tutti i processi poi di lavorazione del prodotto, della musica che uno vuole comporre, diciamo, in termini molto papali, e tutti i ripensamenti, tutte le variazioni in corso d'opera, diciamo, le famose. Questo è un capitolo che abbiamo visto, è abbastanza interessante, tutte le autocensure che uno si fa, per esempio, sulle autocensure, c'è il fatto che quando, molto spesso, non succede in tutti i campi, che uno si trova a lavorare e a pensare a qualcosa, che però non è così, a un certo punto si ferma e pensa e dice, ma perché vorrei fare questa cosa che non è secondo la norma, oppure è una cosa che non è stata mai fatta, o che sarà criticata, eccetera. Allora, infatti il titolo di questo capitolo è perché no. Perché no, è sempre quello che poi risolve un po' le cose, perché tutte le forme artistiche, espressive, diciamo, creative in qualche modo, vanno avanti sempre con un'innovazione che spesso è un momento di trasgressione di regole già state. Cioè, parlo anche un po' delle regole, le regole con un po' che... Lo diceva anche Schoenberg, che era un tipo accidente che si era rigoroso, cui è stato, tra l'altro, il primo, cioè il momento di Schoenberg, quando Schoenberg ha teorizzato nella musica dodecafonica, è stato il primo momento nella storia, da quando conosciamo, dalle clave in poi, che le regole di un modo di comporre la musica sono state pensate prima di farla. In generale, le regole si fanno dopo, su quello che hanno fatto cercando prima, che già forse non vale più, ma neanche loro lo facciamo. Si ipotizza una teoria che si attribuisce cercando di deturre quello che hanno fatto e pensando che quello sia posta ad essere una teoria prima di più. e poi a che spazzano 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 Grazie.